L'abbattimento della temperatura dei fumi, tipico delle caldaie a condensazione, da luogo ad una notevole produzione d'acqua di condensa che va incanalata in uno scarico. Se nel locale lo scarico non c'è, oppure passa troppo in alto, nessun problema, ci pensa Sunny Condens Plus. Sunny Condens Plus è una pompa per acque di condensa prodotta da impianti di climatizzazione, caldaie a condensazione, banchi e refrigeranti. Ha una portata massima di 342 litri all'ora, che è in grado di spingere a 4 metri e mezzo d'altezza o 40 metri di distanza orizzontale. Il liquido entra direttamente nella vaschetta di raccolta, dove viene rilevato da un sensore che attiva immediatamente la pompa. Un secondo sensore, posto più in alto, serve in caso di troppo pieno. Dal suo microinterruttore partono i tre fili utilizzabili per il sistema d'allarme e per spegnere la caldaia. Sunny Condens Plus va collocato vicino alla caldaia in posizione più bassa. Va fissato direttamente alla parete con le viti e i tasselli in dotazione. Nel farlo è fondamentale controllare che resti in posizione orizzontale, in un senso e nell'altro, per garantire il regolare funzionamento dei sensori. Il tubo di raccolta proveniente dalla caldaia si innestra in una delle entrate. Il diametro d'ingresso è 28 mm. Usando il dotatore, il diametro può essere anche 19, 32, 40 mm. In questo caso è da 32 mm. Le entrate non utilizzate vanno chiuse con i tappi inclusi nella confezione. L'evacuazione del Sunny Condens Plus va realizzata esclusivamente con il tubo flessibile fornito, lungo 6 metri. Il tubo va innestato nel raccordo di spurgo, dove è inclusa anche la valvola antiritorno. Il tubo di spurgo deve seguire un percorso il più possibile verticale, per poi compiere una curva ampia ed entrare nello scarico. In questo caso una tubazione di N50, in cui ci si innesta usando il raccordo in dotazione. Volendo usufruire della segnalazione d'allarme del Sunny Condens Plus, bisogna predisporre un dispositivo di segnalazione acustica. Dal Sunny Condens Plus esce un cavo con tre fili che, in caso di abnorme accumulo di condensa, permettono l'attivazione della suoneria e contemporaneamente lo spegnimento della caldaia. Per concludere l'installazione si rimuove la linguetta rossa di sicurezza, si innesta la spina nella presa e si dà corrente. Sunny Condens Plus è operativo. Grazie. 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 Grazie.